E da più parti intanto si paventa anche la fine dell'euro, ma è una possibilità vera e propria oppure si tratta di un'ipotesi priva di fondamento? Noi lo abbiamo chiesto all'economista Paolo Turati. L'euro è arrivato alla fine e c'è da pensare che si ritorni alla lira, con quali conseguenze? Probabilmente non si tornerà alla lira, ma ormai una buona percentuale di banchieri e di operatori finanziari stima la possibilità di durata dell'euro nell'ordine di qualche anno. Circa un 25% di operatori finanziari e un 40-49%, addirittura quasi un 50% di banchieri, stima che ci saranno un paio d'aree che verranno fondate in futuro. Cioè un'area euro 1 che potrebbe rivalutare di un 20%, con quindi la presenza di Germania, Benelux e Paesi del Nord. E un'area euro 2 con probabilmente Italia, Spagna e magari anche Francia che svaluterà di un 20%. Niente di allarmante, da un punto di vista tecnico noi avremo una svalutazione importante, ma rispetto a quelli che sono i beni all'estero. Però teniamo presente che finalmente, dopo 10 anni di blocco, noi potremo ricominciare ad esportare con una certa facilità. Quindi questo sarà sicuramente un grande ossigeno per la nostra industria e quindi sarà lì che probabilmente ci sarà anche una ripresa occupazionale importante. La manovra finanziaria riesce a restituire credibilità all'Italia a livello europeo? Direi che una manovra al momento dei dati preventivi piuttosto banale ha toccato un pochettino dappertutto determinati interessi, ma in maniera marginale. 25 miliardi in realtà sono soltanto una parte della manovra finanziaria del 2011, che tenete presente è stata fatta di quattro parti. Le tre precedenti hanno già drenato circa 60 miliardi. Qui andiamo a toccare un pochettino quello che è l'aspetto congiunturale principalmente pesante, cioè le pensioni. Si torna a tassare la casa, si torna a ragionare su determinati tipi di fiscalizzazione di un certo tipo. Questa introduzione dell'1,5% sui capitali scudati potrà essere una manovra, un momentino discutibile, in quanto va a colpire retroattivamente. Non so se alla fin fine saranno più i fondi che torneranno all'estero a causa di questa incertezza legislativa, che non quelli che saranno i ricavi per l'erario da questa operazione. Turati ha parlato anche, ha introdotto il tema dell'occupazione. L'occupazione.